Il concetto di teletrasporto, immaginate di inventare anche questa propulsione, immaginate anche di riuscire ad andare estremamente veloci, però a questo punto c'è un concetto fondamentale che è quella della dilatazione del tempo. Ti fotte sto meccanismo. Perché invecchi. Esattamente, cioè invecchi di meno e quindi quando torni a casa... Tutti sono vecchi e tu hai 15 anni. Certo, tu hai la fidanzata di 20 anni, torni e ce l'hai di 85, con tutto il rispetto delle 85 anni, però non è proprio piacevole. Non te l'aspettavi. E non te l'aspettavi. Quindi non possiamo ragionare in questi termini. Dobbiamo trovare un meccanismo che permetta di piegare, diciamo, il tessuto spazio-temporale, tra l'altro il tempo, concetto che non esiste, ce lo siamo inventati noi esseri umani, in modo tale che elimini questo problema. Allora, per arrivarci anche lì bisogna... Ci sono stati degli esperimenti dove hanno messo degli elettroni spostati in due parti, hanno visto che le informazioni riuscivano a passare. Quindi secondo me ci si può arrivare. Ovviamente bisogna mettersi lì e studiare.